Le seconde linee al lavoro, si parte con i peperoni pronti per essere infornati. Sembra un esercito, un esercito di bontà. Tutti allineati e imbottiti. Con i peperoni anche la ristagliotura è pronta. L'abbiamo impiattata in maniera diversa, la carne maciata con il sugo sotto e le fettine sopra. E come farcire la sella per domani mattina. Oggi sorpresona, assieme al fior di latte di Vico, ecco qua. Allora, la ricetta originale era funghi, mandorle e provola. Siccome noi siamo napoletani, pensato. Ma visto che ci vanno le mandorle, ma se ci metto il tarallo sbriciolato? Ed eccola qua. Domani vi farò sapere come... Eccola qua. A domani il risponso finale. Qua ore 7, noi siamo già al lavoro. La sella è in forno, tutti pronti. Un picchio di banca al contrario. Evocaviamo tempo. Eccoci qua pronti. Allora vi abbiamo presentato i cotti, i crudi, le preparazioni, il nuovo arrivo di tutto. Pronti per il weekend. La sella, la sella. Buona domenica.